Musica Amici di Rete55, una buona sera, nuova puntata di Bar Eccellenza, è tornato dalla Sardegna, è arrivato. Ciao Brugio Abai, come stai? Sto bene. Com'è andato il viaggio in Sardegna? Molto bene, sono bellissimo. Ti sei divertito, non sei abbronzato, com'è mai? Non sono andato a prendere solo. Ho capito, si vede, poi ti sei divertito. Diciamo di sì. Eh dai, meno male. Ho fatto 5.000 curve. Beato te, beato te, caro Brugio Abai, abbiamo un ospitone questa sera. Allora, amico, compaesano, collega, perché è un giornalista dalla Svizzera, ma italianissimo, di Tele Ticino e Radio 3, Alessandro Cocca. Ciao Ale. Buonasera, buonasera a tutti. Con che accento devo parlare? No, nonostro, 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 mi è venuto così e sono partito. No, allora, adesso Ale, noi ti diamo due minuti, perché tu lavori a Tele Ticino, in cui tu puoi esultare come non hai potuto fare sulla tua televisione. Ma in realtà, Mattia, ti devo dire questa cosa. È stata un po', tu essendo interista, io essendo milanista, è un po' come quando si gioca il derby e una delle due vince. Il lunedì, quando si arriva, chi ha perso dice, no, ma te l'avevo detto, ti anticipa, no, e ti dice, no, ma lo sapevamo già. E invece l'altro che dice, no, beh, però è stata una bella partita e quindi non ti va ad infierire più di tanto. Però, devo dire la verità, non dico di essere 50 e 50, però una parte di me si è dispiaciuto. Vabbè, il lavoro lo tieni, eh. Il lavoro lo tieni. Tranquillo, tanto visto l'ombro Giovanni, la sofferenza, quando hai detto che sei milanista, ha avuto proprio un dolore assoluto. Vabbè, può capitare. Milanisti pochi, però doveva capitare. Pochi ma buoni. Dicevo, pochi ma fieri. Fieri, beh, purtroppo ce ne sono anche fieri. Senti Ale, com'è stato appunto vivere questo europeo dall'altra parte? Perché insomma, tra l'altro, che grande europeo che ha fatto la Svizzera. È stato un grande europeo, iniziato malino, dobbiamo dire la verità, adesso al netto di quella che è stata la partita colline. L'Italia è stata una partenza un po' shock e anche i miei colleghi svizzeri non ci credevano più di tanto a un certo punto. Le critiche sono state pesanti per Pektovic. Sul passaggio del turno, diciamo che forse hanno pensato di essere più avanti, forse perché i giocatori erano di una certa esperienza, iniziavano a giocare comunque in campionati importanti. C'è stato un ricambio generazionale che ha portato anche degli elementi che giocano ad esempio a Borussia Dortmund, piuttosto che in Italia. E quindi si pensava di essere la seconda del girone. L'Italia era nettamente la favorita, però si pensava di passare facile il girone. E invece qualcosa si è inceppato all'inizio, poi fortunatamente è stata ripescata come miglior terza. E poi quello che non ti aspetti, perché tutti davano per vincente la Francia. Io dico sempre che chi entra Papa esce Cardinale, un po' come quando c'è la nomina del nuovo Pontefice. E così è stato, perché chi si immaginava che Mbappé sbagliasse l'ultimo rigore e che la Svizzera potesse andare avanti nel turno. Beh, io a Ambrosio ti do due cose dal mio punto di vista. Primo, non avremmo battuto la Francia, te lo dico proprio onestamente. E io nel quarto di finale ho voluto la Spagna, perché con la Svizzera sarebbe stata una partita difficilissima. Secondo me... Tu sai com'è... Tu hai detto che avremmo vinto fin dall'inizio, è vero. Fin dall'inizio ho detto in modo convinto che noi avremmo vinto. Contro chiunque avessimo giocato noi avremmo vinto. Sicuramente la Francia sarebbe stata un circolamento difficile. Io ritengo ancora e tuttora che la partita più difficile per noi sia stata quella con l'Austria. Proprio perché l'Austria aveva una fisicità che noi non eravamo in grado di sopportare. Superato quello mi sono ancora di più convinto, devo dire. E peraltro la Svizzera mi ha fatto un'ottima impressione. Se non avesse avuto qualche incertezza anche Sommer, che secondo me è uno dei portieri migliori in Europa. Però è nato il figlio, ho avuto qualche problemino. Problemino? Tali isolette. Ecco, bei problemi. Un bel problema. Ritornate, ritornate. Insomma, però la Svizzera secondo me ha fatto un'ottima prestazione. Credo anche io che probabilmente aveva delle aspettative attorno a sé, cosa che è abbastanza originale in Svizzera per l'esperienza che ho fatto io in Svizzera, dove c'è un ambiente abbastanza tranquillo. Invece mi pare che questa volta c'era un po' di carica nei confronti della squadra. C'era un po' di carica anche perché, ripeto, ci sono stati dei giocatori che a un certo punto del torneo hanno dato quel quid in più. Ad esempio Ciaka che non ha fatto una brillantissima stagione in Inghilterra, che sembrava sul punto di essere uno dei migliori addirittura dell'europeo. E l'assenza comunque nel turno successivo con la Spagna si è sentita. Poi anche lì la lotteria dei rigori, vai, e se sbagli tre rigori vai a casa. Decisamente. Ma un po' chi se ne frega, abbiamo vinto quindi, di cosa stiamo parlando? Ci sta. Caro Ale, però tu hai giocato, e come, a calcio, poi ci hai lasciato un paio di ginocchia, quindi va bene, si poteva fare diversamente. Però hai spiorato anche l'eccellenza, siamo a avere eccellenza, tra l'altro in quel diviju. In quel diviju, ormai una ventina d'anni fa. Però sì, ho dei ricordi, ogni tanto parlo con Pietro, che tu conosci bene, mio figlio. Pietro, fermi tutti, salutiamo Pietro subito, perché... Ciao Pietro! E ogni tanto mi chiede, ma papà, ma tu, quanti gol hai fatto? Tu, fino a che livello hai giocato? Allora, vabbè, da buon papà ogni tanto si esagera. Però è vero che sì, ero partito molto bene, poi il fisico non ha retto la mente, mettiamola così. E quindi un po' di acciacchi che mi porto dietro da anni mi hanno fatto abbassare un po' quell'onda che si stava alzando. Sfiorato da Ernestino Ramella, che insomma... Sfiorato da Ernestino Ramella, del quale ricordo un bellissimo precampionato, una preparazione estiva fatta in quel di Macugnaga, dove c'era anche Nicolò Ramella. Grande, Nico! Con il quale abbiamo guardato insieme, questo qui è un piccolo aneddoto, non so se Nicolò se lo ricorderà, la semifinale di Euro 2000, quindi era l'anno, correva l'anno 2000, la partita contro l'Olanda, in cui Toldo parò qualsiasi cosa passava da quelle parti. Quella del cucchiaio. E poi lì scaramanticamente il ritiro finiva, si hanno dovuti tornare per la finale, che poi sappiamo benissimo tutti come andava. Io ero in Francia a vedere quella partita da mia zia, la mia zia Monica, e finì molto bene, piansi amaramente. Vabbè però... I rigori lì ci dissero male. Ma che rigori, il Golden Goal abbiamo perso. Primo e ultimo anno, tra l'altro, di Golden Goal. Quale è il rigore di viaggio? No, Francia 98. Ambrogio vai, perde i colpi, e questa è la vera notizia del giorno. Ma adesso gli passo la palla, così adesso sfondiale sul calcio svizzero, perché insomma tu sei baluardo del calcio svizzero. Ahia. Baluardo mi sembra una parola grossa. No, però stiamo parlando tanto a livello di eccellenza dei gironi, che sono tornati a tre, perché le società si sono rifiutate di passare a quattro, e tu sei sempre stato un grande sostenitore di questo campionato più breve, con meno giornate, con la pausa lunga d'inverno, ma giocando una bella stagione. Ne abbiamo parlato anche con Fiorento Roncari, che ha trovato un panchinone. Noi portiamo bene, Ramella è venuto qui in Toscai, Ronca è venuto qui, è preso da sesto. Perciò, perciò. Non so cosa c'è di libero in giro, però lo tocco anche, non so mai che porta fortuna. No, io sono da sempre un fautore di questo format, chiamiamolo così, perché mi sembra corretto per diverse ragioni. La prima è quella geografica, vorrei dire meteorologica, perché fermare il campionato, come si ferma in Ticino, dai miei tempi si fermava ai morti e si riprendeva a San Giuseppe, quindi per capirci. E poi anche perché sicuramente giocando, quando si deve giocare a calcio, a maggio, a giugno, quando le giornate sono più lunghe, si favorirebbero anche le società che non hanno l'illuminazione, sono tante nelle categorie più basse, per i recuperi ne sappiamo già qualche cosa. E inserire anche poi una sorta di play-off, play-out, magari ridisegnato in un altro modo, a usare il metodo della Coppa Svizzera. Coppa Svizzera, ai miei tempi, quando ero a Mendrisio, noi giocavamo una partita in casa contro il Winterthur con 8.000 persone, perché in Coppa Svizzera la squadra di categoria inferiore ospita sempre per natura, per regolamento, la squadra della categoria superiore e vanno a incrociarsi per sorteggio, quindi tu puoi prendere, come in Inghilterra del resto, una squadra di prima lega, come eravamo noi, abbiamo preso una squadra di serie A, tra le più blasonate e attirando, cioè è veramente una cosa che si ricordano tutti. Con una tifoseria che comunque segue dalla Svizzera interna. Dalla Svizzera interna, ma pensa anche in Italia, poter giocare, non so, una seconda categoria contro, ma dico soltanto una serie di... Anche un po' all'inglese, come succede anche in Inghilterra. Come in Inghilterra succede la stessa cosa, cioè è un modo anche per fare qualcosa di nuovo, perché siamo un po' stantissimi. Io ricordo quando passai dall'altra parte, anche calcisticamente parlando, e mi ritrovai a Melano, e mi presentai, ricordo una sera, una delle prime serie, Borsone, pioveva, sono arrivato a me e ho detto, ma cosa ci fai qua? C'è l'allenamento? Eh no, quando piove non si gioca qua. E infatti hanno dei campi, vuoi d'allenamento, vuoi quelli per giocare le partite ufficiali, che sono dei tappeti. Penso che nemmeno Wimbledon abbia quei campi lì, ma da serie minori fino ai 5-6 campi che utilizza il Lugano a Cornaredo. Quasi come da noi, mi avrebbe da dire. Ale, com'è stata la gestione del calcio in pandemia? Perché appunto abbiamo detto della decisione che non è arrivata al campionato d'eccellenza, che diciamocelo, diciamo che è retondo, se l'anno prossimo siamo ancora in lockdown, il campionato d'eccellenza chiude un'altra volta con questo sistema, perché i recuperi non si riuscirebbero a fare. In Svizzera com'è andata da questo punto di vista? Non è andata tanto diversamente, nel senso che si sono bloccati subito e non sono quasi mai ripartiti. Sono ripartite forse le ultime due giornate di campionato, ma anche lì senza retrocessioni, senza promozioni. Cioè era forse più un contentino per dire ci siamo e quindi arriviamo comunque a livello regolamentare alla fine del campionato. Però anche lì, anche perché, come dicevo prima, non si gioca con la pioggia, tantomeno in pandemia. E quindi è stata una gestione oculata per certi versi. Purtroppo, ne parlavamo anche fuori onda prima, si è perso tanto tempo. E quindi adesso anche ricominciare non sarà semplicissimo anche per gli stessi giocatori. Io, ad esempio, anche nel calcio direttantistico italiano non immagino tanti cambi di casacca quest'anno. Proprio perché non c'è stato il tempo di mettersi in mostra e anche quello di dire, ok, cambio squadra, perché chi me lo fa fare? Non so nemmeno dove vado, perché anche a livello economico non so che società vado a trovare post pandemia. Decisamente. Vorrei chiudere ovviamente parlando di piccoli, di bambini, perché insomma tu sei un papà anche di un giovane calciatore. Com'è stato vivere questo momento senza calcio o con quella specie di calcio distanziato che abbiamo provato a fare? A casa mia il calcio c'è sempre stato. Vuoi perché ho il giardino, vuoi perché ho una porta, vuoi perché sono un gran collezionista di figurine e ho trasmesso tutte queste tre passioni a mio figlio e quindi si parla sempre di calcio. Ogni tanto la mamma ci sgride e ci dice però basta. Basta. Non dirmi che è già milanista. Eh, per forza, per forza. Sì, lo è, sì, lo è, confermo. Però devo dire ho altri due figli e il secondo sarà quello che mi darà poche soddisfazioni sotto questo punto di vista. Perché è già interista. No, purtroppo non è né rosso nero né nera azzurro. Eh no, allora dobbiamo intervenire subito. Però per adesso lo lascio fare poi, quando inizierà ad esserci la paghetta farò capire come stanno le cose. Bene, grazie Ale. Grazie a te. Altrettanto. Grazie Ale, grazie. Grazie Ale, grazie. Tu basta, vai in giro ancora. Chi lo può dire? Però dobbiamo dire che sentiamo la prossima e l'ultima puntata. Sì, ma la prossima sicuramente ci sono. Andremo al fresco. Torneremo al fresco. Torneremo al fresco. Torneremo a fare il tufo. Lo rifacciamo il tufo. E lo facciamo. Andremo a trovare Marzio, la Talpa, neo allenatore della Vergiatese. Ritorno sulla panchina in modo tale che ci raccontano tutto. Festeggeremo. Festeggeremo e speriamo che vada bene. Grazie per il Giobai. E allora Barri Eccelenza che torna come sempre settimana prossima, il martedì alle 20.30 su Rete55. Ultima puntata e poi ci rivediamo a settembre. Facciamo le vacanze che non ne possiamo più. A settimana prossima. Ciao. Ciao. Ciao.